Musica Nel Palasassi di Matera alla cerimonia funebre per l'ultimo saluto a Giuseppe Martino e Nicola alla salata i due vigili del fuoco morti il 17 luglio scorso mentre erano impegnati nello spegnimento di un incendio divampato nelle campagne di Novasiri a Matera, Novasiri e Policoro è stato lutto cittadino Vigili attormentata per il consiglio regionale della Puglia un pezzo di centrosinistra è intenzionato a tirare dritto sul trattamento di fine mandato ma sul partito democratico pende la scomunica del partito nazionale niente retroattività e intera somma a carico dei consiglieri tra le ipotesi di mediazione Clamorosa forma di protesta di alcuni cittadini al quartiere Paolo VI di Taranto hanno bloccato la strada perché senza acqua da un mese Nuovo appuntamento con l'informazione interregionale di Antena Sud ben ritrovati lo avete sentito nei titoli ed è terminata da pochissimo la cerimonia funebre per l'ultimo saluto ai due Vigili del Fuoco Giuseppe Martino e Nicola Lasalata morti il 17 luglio scorso mentre erano impegnati nello spagnimento di un incendio divampato nelle campagne di Novasiri in collegamento in diretta dall'esterno del Palasassi di Matera dove si è svolta la cerimonia funebre Gianmarco Sanzolino per raccontarci ovviamente non soltanto le emozioni ma anche il racconto appunto di questa giornata buonasera Gianmarco Buonasera a te e ai nostri telespettatori una lunga diretta per raccontarvi questo ultimo saluto così toccante circa 1500 persone nel Palasassi che vedete alle mie spalle qualche istante fa le due bare hanno lasciato il luogo è stato un momento importantissimo perché come vi dicevo tante persone sì ma un unico animo quello triste nero del silenzio del rispetto del voler omaggiare questi due eroi anche il cielo commentavamo in diretta sembra voler piangere questi due eroi assolutamente nero c'è stato anche un violento acquazzone durante il rito funebre a celebrarlo come avete visto il l'arcivescovo di Matera ma erano presenti le massime autorità locali il prefetto il questore tutti i comandanti delle varie forze dell'ordine e naturalmente anche la comandante dei vigili del fuoco tra poco ascolteremo le sue parole toccanti un discorso veramente a cuore aperto per i suoi vigili così li ha definiti a partire dai due che purtroppo sono periti lo ricordiamo nel tentativo di salvare delle vite umane tantissime le persone che li hanno omaggiati anche nella camera ardente allestita nella palestra del comando provinciale di Matera intanto vi faccio ascoltare subito l'intervista realizzata dal collega francesco cutro al sottosegretario di stato dell'interno proprio con delega i vigili del fuoco Emanuele Prisco una serata difficile in cui salutiamo dei servitori dello Stato nel mio caso anche dei colleghi una comunità intera piange due servitori dello Stato che si sono comportati ancora una volta da eroi mettendo a repentaglio la propria vita per salvare quella di altri e l'auspicio che la loro morte non sia non sia vana e che si possa sempre più innalzare il fronte della prevenzione degli incendi e soprattutto della repressione nei confronti di coloro i quali commettono atti come quelli che poi determinano conseguenze come quelle che oggi siamo qui scusate ingiustamente a piangere noi li ornereremo come eroi e ovviamente non lasceremo sole le famiglie nel comando di Matera ad affrontare questo difficile lotto grazie a voi il sottosegretario Prisco che ha partecipato torniamo in diretta dinanzi al Palasassi di Matera lo vedete ci sono ancora tantissime persone soprattutto vigili del fuoco con il nostro Massimo Todaro ve li facciamo vedere sono veramente in tanti ma lo abbiamo detto un omaggio veramente univoco da tutte le forze dell'ordine del luogo e poi qui ci sono ancora tantissime corone di fiori lo vedete dinanzi all'ingresso di questo centro sportivo che ben si è prestato purtroppo alla cerimonia funebre inizialmente si era pensato alla chiesa principale qui di Matera ma poi l'allerta meteo ha fatto cambiare la decisione in corsa fortunatamente perché poi c'è stata una forte pioggia doverosa anche parentesi sul fronte delle indagini dalle prime discrezioni sull'esame autoptico che si è svolto nei giorni scorsi due pempieri pare abbiano perso la vita a causa delle esalazioni di monossido di carbonio proprio nel tentativo di salvare da un casolare a fuoco nelle campagne di Novesiri una famiglia con una donna come dicevamo anche allettata ma non è tutto perché l'incendio sarebbe quasi certamente stato doloso qualcuno avrebbe quindi appiccato il fuoco per bruciare delle sterpaglie e sarebbe stato fatale per questi due vigili del fuoco il cambio del vento repentino adesso vi facciamo ascoltare alcuni istanti del discorso della comandante dei vigili del fuoco di Matera che ha parlato subito dopo la moglie di uno dei due vigili e anche una parente stretta ascoltate persone dignitose sì perché fatte da uomini e donne che lavorano duramente e onestamente per sostenere le loro famiglie e i loro bambini io in modo particolare devo evidenziare il loro attaccamento e la passione per il loro lavoro faccio mie le parole del Presidente della Repubblica Nicola e Giuseppe che con eroico e generoso spirito di servizio hanno sacrificato la loro vita nell'adempimento del loro dovere rimarranno per tutti noi un esempio di rare ed elevate virtù morali posso solo aggiungere che sono orgogliosa di essere il comandante di uomini così viva Nicola, viva Giuseppe, viva i vigili del fuoco la cerimonia si è svolta nei palassassi di Matera che si affaccia su una delle vie principali della città della Basilicata, Viale delle Nazioni, queste e altre strade limitrofe sono state momentaneamente chiuse al traffico per far sì che tutto si svolgesse in piena sicurezza anche il corteo che ha accompagnato in arrivo le due salme che adesso invece si stanno dirigendo i ferretri in Contrada Pantano proprio al cimitero cittadino e allora per il momento è tutto, una gerata nera, tristissima per Matera, per la Basilicata per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a tela linea Grazie, grazie a Gianmarco Sanzolino, ovviamente grazie a tutti i colleghi Francesco Cutro e colleghi tecnici che hanno lavorato per la diretta che vi abbiamo proposto proprio prima dell'edizione del telegiornale dei funerali dei due vigili del fuoco deceduti durante appunto il servizio a Nova Siri. Restiamo alla cronaca e torniamo con il nostro telegiornale con una vicenda che invece arriva da San Pietro Vernotico, quattro persone sono state fermate con l'accusa di aver compiuto una serie di attentati contro la nuova famiglia di un presunto boss detenuto l'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Recce Avrebbe scatenato una vera e propria guerra contro la sua ex moglie che vive con un nuovo compagno e contro la famiglia di quest'ultimo, una persecuzione che va avanti da quasi due anni con attentati dinamitardi incendiari, colpi d'arma da fuoco e aggressioni fisiche Lo Stato risponde presente a San Pietro Vernotico dove all'alba di lunedì i carabinieri del comando provinciale di Brindisi su disposizione della DDA di Lecce hanno eseguito quattro decreti di fermo nei confronti dei presunti esecutori materiali degli attentati Il mandante rinchiuso nel carcere di Sulmona si chiama Cristian Tarantino a 36 anni e per una serie di condanne dovrebbe ritornare in libertà solo nel 2046 In manette sono finiti Omar De Simone, 29 anni, Carmine Fellini, 21, Daniele Poso, 38 e Antonio De Michele, di 26 anni, tutti di San Pietro Vernotico Sono accusati di associazione mafiosa con l'aggravante della disponibilità delle armi tentata estorsione, porto e detenzione di armi da fuoco, lesioni personali, danneggiamenti con esplosivi e a seguito di incendio L'inchiesta è partita nell'ottobre 2022 dopo una sequenza di attentati a una salumeria nel centro storico del paese Si scoprì quasi subito che il racket delle estorsioni non centrava nulla e che i titolari del negozio erano stati presi di mira solo perché imparentati con il nuovo compagno della ex moglie di Tarantino Nel corso dei mesi successivi, attentati e intimidazioni alla famiglia sono proseguiti sino all'aggressione fisica al fratello della donna avvenuta durante l'ultima festa patronale di San Pietro e all'incendio dell'auto della madre pochi giorni fa Secondo quanto appurato dagli investigatori, gli ordini degli attentati partivano dal carcere di Sulmona in cui Tarantino aveva la disponibilità di telefoni e pc clandestini L'ex moglie del presunto boss da oltre un anno vive sotto tutela delle forze dell'ordine Dopo i quattro fermi, evidentemente effettuati d'urgenza si attende da parte del giudice preliminare l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei cinque indagati Questo avverrà probabilmente nel corso dell'udienza di convalida dei fermi Un uomo di 32 anni di nazionalità rumena è stato trovato senza vita nella diga del Locone Un invaso artificiale che si trova non lontano da Canosa di Puglia nella sesta provincia Il cadavere è stato rinvenuto dai vigili del fuoco di Bari e Barlette e dai carabinieri che hanno lavorato per tutta la notte La ex fidanzata dell'uomo ne aveva denunciato la scomparsa perché preoccupata del fatto che non rispondeva al telefono Ai carabinieri aveva riferito che il 32enne aveva deciso di trascorrere il fine settimana vicino alla diga in compagnia dei suoi tre cani Si sono scattate così le attività per la ricerca che si sono avvalse di una sala operativa delocalizzata e di personale TAS topografia applicata al soccorso dei vigili del fuoco Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato i tre animali e la tenda ma non l'uomo il cui corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco dal lato opposto rispetto a dove aveva lasciato i suoi effetti personali Droga e telefonini portati in carcere con i droni è la nuova frontiera della criminalità organizzata a Trani intercettato dagli agenti della polizia penitenziaria un velivolo carico di sostanze stupefacenti e dispositivi di comunicazione Droga e telefonini recapitati in carcere con l'utilizzo di droni a Trani sventata la consegna dagli agenti della polizia penitenziaria che hanno intercettato il velivolo radiocomandato grazie all'udito di uno dei vigilanti che ha riconosciuto il rumore dei rotori del drone gli agenti si sono posizionati sul muro di cinta della struttura individuando il velivolo senza conducente intento ad entrare nella struttura per la consegna a domicilio la necessità aguzza l'ingegno e questo lo sa bene il mondo della criminalità che ai classici metodi di nascondere materiale illecito all'interno di cibo o altro materiale consegnato ai ritenuti oggi preferisce l'impiego di mezzi tecnologici come i droni appunto pilota all'esterno e detenuti all'interno del carcere probabilmente muniti di telefonini per dare indicazioni alla vista degli agenti impegnati nella ricerca dei responsabili hanno interrotto l'azione criminosa lasciando precipitare al suolo il velivolo con guida da remoto la polizia ha quindi potuto raccogliere il materiale avio trasportato ovvero telefonini, carica batteria e piccole dosi impacchettate di sostanza stupefacente a lanciare un allarme su questa nuova emergenza Federico Pilagatti, segretario nazionale del SAP che invoca l'introduzione di accorgimenti tecnici a basso costo come per esempio l'utilizzo di jammer richiamando nel frattempo le carenze di organico della polizia penitenziaria e l'emergenza estiva legate ai piani ferie Nel Foggiano scoperto un deposito di pezzi di auto rubate tre le persone arrestate per ricettazione di parti di autovetture di provenienza furtiva Scoperto nel Foggiano il deposito di pezzi di auto rubate recentemente nel Barese in tre finiscono in manette i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Foggia hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dall'ufficio GIP del Tribunale del Capologo Dauno nei confronti di due persone di Cerignole ed una di Ortanova il provvedimento è giunto all'esito di un'attività investigativa scaturita da un controllo su strada effettuato durante normali attività di controllo economico del territorio nella circostanza i militari insospettiti dall'atteggiamento tenuto dal conducente di un furgone hanno sottoposto a controllo il mezzo a bordo del quale hanno rinvenuto e sequestrato diversi componenti di un'autovettura marca Audi cannibalizzata poco prima tra cui sportelli, cofano anteriore e posteriore, pneumatici e blocco motore completo di cambio le attività di perquisizione estese ad un immobile in stato di abbandono nella disponibilità degli arrestati e utilizzato dagli stessi come deposito hanno consentito di rinvenire ulteriori pezzi di autovetture tra cui sei blocchi motore completi di cambio e diverse serie di cerchi e gomme di note case automobilistiche le conseguenti attività di indagine hanno consentito di documentare come i componenti rinvenuti provenissero da sette autovetture recentemente rubate in provincia di Bari ci dobbiamo fermare per una breve pausa torniamo tra un po' con l'informazione di Antenna Sud torniamo con l'informazione di Antenna Sud restiamo alla cronaca perché a Gallipoli si è sfiorata la tragedia per la rottura di una parte delle giostre che sono sul lungomare Gallileo Galilei e questo ha messo in pericolo alcuni ragazzini sta facendo il giro delle applicazioni di messaggistica istantanea il video che immortala gli attimi immediatamente successivi al cedimento di una componente della giostra situata nel Luna Park del lungomare Galileo Galilei a Gallipoli l'episodio si è verificato nella serata di domenica 21 luglio mentre la giostra era in funzione 4 i ragazzi rimasti feriti che sono stati immediatamente soccorsi dal personale dell'impianto dai presenti e dai sanitari del 118 i quali hanno provveduto poi al trasferimento dei giovani presso l'ospedale Sacro Cuore di Gallipoli per dei controlli per due di questi due ragazzi di 9 e 14 anni si temeva un trauma cranico e varie fratture il personale medico del nosocomio Salentino ha riscontrato in seguito agli esami diagnostici solo piccole ferite e varie contusioni per i giovani i quali hanno potuto poi fare ritorno nelle loro abitazioni in tarda serata sul posto oltre al personale del 118 sono intervenuti gli agenti della polizia locale i colleghi del locale commissariato di pubblica sicurezza i quali stanno ricostruendo la dinamica dell'episodio per comprendere le cause del cedimento di una parte dell'impianto si tratta di una giostra che si compone di seggiolini appesi a lunghe catene che ruotano mentre gli occupanti devono tentare di prendere al volo il trofeo in palio in questo caso un pallone che permette di guadagnare un giro gratis accedere a causa probabilmente dell'azione impropria dei ragazzi sarebbe stato il palo in ferro che regge il pallone l'attrazione comunque è dotata dei permessi necessari ed è stata omologata dalla commissione per i pubblici spettacoli giudizio immediato per salvatore vassalli il presunto autore dell'omicidio di mauro di giacomo il fisioterapista assassinato sotto casa a poggio franco il 18 dicembre scorso compalirà davanti ai giudici della corte d'appello il prossimo 5 novembre sarà giudizio immediato per il presunto omicida di mauro di giacomo il 65enne fisioterapista freddato con sette colpi di pistola sotto casa in via tauro al quartiere poggio franco di bari la sera del 18 dicembre scorso salvatore vassalli il carpentiere di canosa accusato dell'omicidio comparirà davanti ai giudici della corte d'appello del capoluogo il prossimo 5 novembre il procuratore Ciro Angelillis e il sostituto Matteo Soave titolari dell'inchiesta hanno chiesto e ottenuto dal GIP Nicola Bonante l'ammissione a giudizio immediato contestando l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dai futili motivi oltre alla minorata difesa visto che Di Giacomo nel momento dell'aggressione era appena sceso dalla sua auto con le buste della spesa tra le mani vassalli è detenuto nel carcere di Bari dal 16 maggio scorso quando gli inquirenti hanno chiuso il cerchio sul movente dell'omicidio per gli investigatori coordinati dal capo della mobile Filippo Portoghese il canosino avrebbe ucciso Di Giacomo perché autore di una manovra fisioterapica sbagliata sulla figlia che così avrebbe subito danni permanenti infatti questa accusa da parte di Vassagli era stata portata anche davanti ai giudici del Tribunale Civile non sapevo che aspetto avesse e ha spiegato il presunto omicidio ai giudici durante l'interrogatorio di garanzie e così secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti prima lo avrebbe avvicinato e avrebbe iniziato a litigare poi dopo le risposte del fisioterapista Vassagli avrebbe preso la pistola dall'auto vedendosela puntare contro Di Giacomo avrebbe provato a disarmarlo iniziando una collutazione durante la quale lo avrebbe colvito due o tre volte con il calcio dell'arma poi sarebbero partiti i colpi Nel fallone spunta la scritta pecorina rivolta al magistrato Errede che presenta a sua volta memoria e chiede in sede civile i danni Il magistrato Pietro Errede ha recentemente esporto denuncia per diffamazione dopo aver scoperto il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche Errede è attualmente imputato in un processo per corruzione e ha presentato una memoria dettagliata alla procura di Catanzaro in cui fornisce elementi per individuare le autori di un'offesa omofoba che ha danneggiato la sua immagine e reputazione Nella memoria presentata Errede ha incluso alcuni nomi ha puntato il dito contro l'intestazione di un brogliaccio che riportava la parola pecorina La difesa del magistrato ha anche fornito ulteriori dettagli e indicazioni sul coinvolgimento di alcuni militari della Guardia di Finanza di Lecce chiedendo che venissero iscritti nel registro degli indacati La procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo per diffamazione e sarà compito dei magistrati valutare l'accaduto e determinare eventuali responsabilità Nel frattempo la difesa di Errede ha annunciato l'intenzione di intraprendere un giudizio civile per ottenere un risarcimento per i danni subiti dal magistrato Si attendono ovviamente ulteriori sviluppi su questa vicenda che coinvolge un membro della magistratura e solleva questioni importanti riguardo alla diffamazione e alla tutela della reputazione delle persone coinvolte in processi legali Il Tar congela il passaggio della gestione dal privato al pubblico per il centro riabilitativo di Ceglie Messapica prossima udienza il 4 settembre Il Tar di Lecce ha sospeso fino al prossimo 4 settembre il passaggio dalla gestione privata a quella pubblica del centro di riabilitazione di Ceglie Messapica accolta dunque l'istanza presentata dalla fondazione San Raffaele che aveva richiesto la sospensione d'urgenza dell'atto di subentro della ASL nella gestione della struttura sanitaria Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale il piano regionale non pare idoneo ad assicurare il ricollocamento immediato di tutti i pazienti tenuto conto anche che l'ospedale Perrino di Brindisi non risulta disporre di posti letto per la riabilitazione di neurolesi e motulesi e per le altre strutture sanitarie pugliesi non è stata accertata la disponibilità Pertanto vista l'urgenza il Tar di Lecce ha accolto il ricorso della fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica la prossima udienza è fissata per il prossimo 4 settembre La politica con la vigilia tormentata per il Consiglio regionale pugliese un pezzo di centrosinistra è intenzionato a tirare dritto sul trattamento di fine mandato sul Partito Democratico però decide la scomunica dei vertici nazionali del partito niente retroattività intera somma a carico dei consiglieri tra le ipotesi di mediazione E' una vigilia tormentata per il trattamento di fine mandato in regione un pezzo di centrosinistra è intenzionato a tirare dritto sul PD pende l'ordine di scuderia del partito nazionale per il quale in caso di voto favorevole ci si vedrebbe sconfessati e messi alla porta eppure il Movimento 5 Stelle avrebbe difficoltà a far digerire ai suoi il ritorno dell'assegno a volito nel 2012 e poi ripristinato due anni fa ma solo per qualche settimana finendo con un niente di fatto alla ripresa dei lavori di settembre per il centrodestra è questione da far sciogliere nell'altra parte dell'emiciclo la mediazione potrebbe essere togliere la retroattività o lasciare la montare della somma interamente in capo ai titolari di scranno in estrema razio e rinviare tutto al bilancio di fine anno corsi e ricorsi nel 2023 era toccato a Michele Emiliano scrivere ai consiglieri per chiedere di dietro front una lettera aperta del governatore alla vigilia di un altro ritorno in aula e della pausa estiva della massima assemblea all'esterno del palazzo CGL associazioni e comitati minacciavano le barricate compresa la giusta causa di Michele Laforgia che di lì a poco avrebbe confermato la disponibilità a correre dal sindaco di Bari vi capisco si leggeva nella lettera del capo della giunta ugualmente seguita dalla richiesta di passo indietro altrimenti il rischio è quello di rovinare il magnifico lavoro che maggioranza e opposizione hanno svolto nelle legislature cui ho potuto partecipare come vostro collega firmato Michele Emiliano Consultazioni a Taranto a Palazzo di Città tra il sindaco Melucci e due gruppi di maggioranza Italia Viva ha ribadito la propria richiesta vuole subito un posto in giunta Richiesta confermata Italia Viva ha domandato al sindaco di Taranto Melucci l'assegnazione di un assessorato prima della pausa di agosto è stato un colloquio franco quello avvenuto a Palazzo di Città tra la delegazione del partito renziano guidata dal presidente regionale Massimiliano Stellato con la presenza del presidente provinciale Gallo della presidente cittadino Basi della consigliera comunale Casula e della responsabile antilocali fuggetti Italia Viva ha ribadito la propria posizione chiedendo l'ingresso in giunta e una rimodulazione complessiva anche nell'assetto delle partecipate come Italia Viva come Italia Viva il gruppo consigliare e la segreteria cittadino e provinciale ha chiesto al primo cittadino di essere rappresentata all'interno dell'esecutivo devo dire che l'importanza di questa scelta non prescinde dal nostro sossegno alla maggioranza e dalla necessità di adoperare ogni sforzo per tenere insieme unita tutta la coalizione adesso lasciamo il sindaco lavorare su questa ipotesi attendiamo nei prossimi giorni insomma una convocazione per farci conoscere le decisioni della coalizione e del sindaco Melucci si è riservato di decidere ogni possibile modifica dell'attuale assetto arriverebbe comunque dopo l'approvazione del riequilibrio di bilancio a fine mese con due strade possibili la sostituzione di un solo assessore o l'azzeramento completo delle cariche il primo cittadino ha incontrato anche i consiglieri comunali di Taranto Attiva Patrizia Mignolo e Goffredo Lomuzio entrambi hanno smentito ogni possibile contrasto con il sindaco ribadendo la propria totale adesione alla maggioranza siamo diffusori di quelle che sono le iniziative condivise dell'amministrazione va bene così restiamo a Taranto perché c'è una clamorosa protesta dei cittadini del quartiere Paolo VI hanno bloccato la strada perché sono senza acqua da un mese abbiamo appena finito di lavorare devo andare a casa a lavarmi col bidone non è giusto nel 2024 ho finito di lavorare da ieri sera alle 10 ormai esasperati dopo la protesta che si è tenuta dinanzi alla prefettura nei giorni scorsi stavolta hanno deciso di bloccare la strada siamo in via 25 aprile al quartiere Paolo VI di Taranto un mese senza acqua corrente inutile sottolineare i gravi disagi per decine di famiglie un'estate drammatica la clamorosa forma di protesta per chiedere un intervento definitivo una volta per tutte da parte dell'acquedotto pugliese e delle istituzioni i disagi maggiori per i cittadini che abitano ai piani più alti degli stabili di via 25 aprile nonostante le rassicurazioni la situazione non accenna a migliorare se per 49 anni l'acqua l'abbiamo avuta come mai da due mesi non si ha più l'acqua è solo via le 25 aprile se avevano ridotta la pressione la devono ridotta tutta la valore siamo stati completamente abbandonati si stanno trattando peggio delle bestie è assurdo chiamiamo e ci dicono fra due o tre ore arriva ma acqua non se ne vede c'è una settimana che non abbiamo di nuovo acqua quindi noi non sappiamo più cosa fare durante la protesta è stato contattato anche il consigliere comunale di Taranto e membro della CDA di AQP Lucio Lonoce il quale ha spiegato che l'acquedotto pugliese sta provvedendo ad aumentare la pressione dell'erogazione idrica anche in quegli stabili non dotati di autoclave si tratta di un impegno assunto dall'acquedotto pugliese da parte dell'ingegner Notarnicola nel corso del recente vertice che si è tenuto nei giorni scorsi in prefettura siamo in chiusura con l'informazione di Antenna Sud grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi della rete Rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo